Ciao a tutti da Chris Atticezza, lavoratore del blog, direttamente dall'albergo Gambrinus, eccomi sul set di Un Sogno Migliore, ecco, con Michael Chris per la sua canzone, stanno facendo questo videoclip contro la violenza della donna per la regia di Alessandro Bremer, direttore della fotografia, ed ecco qui anche il cast, la canzone contro la violenza sulle donne, un sogno migliore, con questa canzone ci tengo a precisare che non ho la presunzione di arrivare da nessuna parte e di cambiare le cose, ma voglio soltanto dare una direttina alle orecchie alle autorità predisposte che debbano tutelare le donne una volta che denunciano. Ecco, noi siamo tutti quanti con te e c'è l'intero cazzo a cominciare da... E tutti quanti noi diciamo... MADREZZA! Per un sogno migliore, Michael Chris, Alessandro Prete, Gabriele Cash e tutto il cast. Ciao!